voglio guardate qua cotoletta di melanzana voglio ma questo è vero a fine romone guardate qua com'è bello guardate mamma mia guardate qua con una parte di questa melanzana la c'è in un forno con poche prosciutto e una poche mozzarella voglio a fine romone vieni con me e ti faccio vedere come l'ha già fatto guardate qua guardate mamma mia oggi tengo l'aiuto anche gli ingredienti stanno qua non ci vuole niente guardate lo pare di melanzana tanto mamma ci vuole pure frigo quindi facciamo questa bella cotoletta di melanzana che ci ha regolato proprio melanzana però non si mangiano così farina, uova, pane grattugiata olio da friggere che abbiamo accattato al supermercato e briatore 6 euro a bottiglia wow io ci stanno facendo i tuz anche comunque fatigami la prima cosa da fare allora io adesso mi vado a togliere naturalmente la parte di sopra la parte di sotto e che faccio al posto di andare a tagliare sempre sempre le stesse cose facciamo basta a posto di fare le rotonde le faccio di lungo come? ah così vedete? questa è la grandezza perfetta non deve essere né troppo doppia né troppo piccola perché ora infariniamo mettiamo l'uovo che sta sbattendo Sofia vedi? guarda uovo con sale un po' di pepe non ce l'ho messa ancora un po' di pepe e un po' di formaggio quindi faremo con questa farina uovo e pane grattucciato e poi ammendare l'occhio vai avete tagliato le melanzane come vi ho detto le melanzane voglio dire perché io dico che melanzane a Napolitano è una muligna ma che l'ha così bella ma perché già parla melanzane zucchine oh i cucuzzi oi sta pure la nonna che non si fa guardare oi mannaggia ah no viene a capire vieni 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 rientro buone a nonna allora guardate a me farina uova e pane grattucciato come sta facendo Sofia faccelo vedere faccelo vedere schiacciano un po' qui Sofia fai un po' così oi ma non molto così fammi vedere alzagliela fagliela vedere fai più a così dopo la buttiamo nell'olio di Flavio Breatone 6 euro a buttare tutti quanti fanno la prima mamma e che sta mamma mia oi io carito io ho pure mamma mamma come sta come sta la maniera se buoni nani ah i rupi i rupi i rupi i rupi i rupi che pensi ma i rupi ti metti il panino e ti mangiare così come ti mangiare senza panino ah così ti mangi sì vabbò allora ci facciamo qui i pom te in mente che fa pure una cosa al forno facendo la prima fritta e poi ci mettono pochi prosciutti tacchini pochi mussarelli a goccia la nonna l'ha visto che fosse mia mamma ma io questo è che fin va bene l'olio non tanto bollente sennò poi dopo rischiate di cuocere all'esterno facendo farlo quello biondo e dentro ancora crudo va bene così che incomincia proprio piano piano a friggere e poi la mettete medio alta la fiamma o fuoco a induzione deve tornarsi piano piano e a intesa da cuocere perché amo l'ignano come la fai fai a finora mi raccomando asciutto e biondo guardate come è bello guardate guardate mmm mannaggia dieta però uno mi possa mangiare oggi ah chiamolo chiamolo amo mi fai chiamolo a me su chiamolo e certo e chiamolo nel frattempo che continua a raffrire tutto quanto una bella parte me la cedì si dà una placca tanto bello ci sono un poche sale e pepe e nel frigorifero voglio questa cosa bella faccia semplice teniamo giusto poche prosciutto cotte tacchini poche mozzarella ce l'ho messo sopra ma questa mi metto il tuo forno e che se c'è ci mangiamo così ci vorremmo fare 10 minuti ora ci mettiamo poche sale poche sale aca nato poche poche sale aca guardate che la cipata si ho un po con il forno con i prosciutto e cose che si c'è così però c'è già fanno poche sale nato poche aca e non poche sale poche perché i malucchi sono troppo assai man mano sa poco cose che salata vede sarai renditi sciol 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 e non soffi a papà vi vuoi provare proviamo usacce che a te forse non ti piace la monignale però proviamo guardate guardate ti mangi usacce santo spazio guarda c'è spagna mocca come come dopo questo non si fa neremo su una gravi però vuoi salutare a tutti a me no ian che dopo ti metti il maionese e che c'è la pezzi felice attacca attacca è bello amore no non è bello non non è male buono ecco buono che sta qua con prosciutto cotto e mozzarella ricetta aiuto e pur se c'è il mio cuore sono finito alla prossima mamma